Sono Ludovico Para, vengo dal liceo biomedico Maserati di Voghera. Oggi, durante questo incontro, ho capito quanto sia importante l'AI nel campo della medicina, ma soprattutto anche quanto sia importante l'utilizzo che se ne fa, perché possiamo avere anche la migliore intelligenza artificiale del mondo, ma senza qualcuno che la sa interpretare è inutile.